Si chiama Alert System, il nuovo sistema adottato dal comune di Castelnuovo Garfagnana per informare direttamente e raggiungere i propri cittadini in caso di allerte, iniziative o mancanza di servizi. Una tecnologia già adottata da tanti comuni, dai più piccoli a grandi città come Genova. È un metodo assolutamente efficace, in pochi minuti sarà in grado di avvertire tutti gli abitanti di Castelnuovo, quasi in tempo reale, per mezzo di un'app, ma soprattutto raggiungendo tutti telefonicamente. Da oggi il servizio è attivo solo con i numeri di telefono fisso, per migliorare tale servizio è necessario che i cittadini scarichino l'app sul telefonino, in modo da lasciare anche il numero telefonico mobile per rendere il servizio più autorevole ed efficace. Un servizio gratuito per i cittadini e che non verrà mai usato per scopi pubblicitari. Il sistema è collaudato e funzionale, per cui la cosa importante è scaricare l'app e registrare i numeri dei telefoni mobili in modo da essere raggiunti sempre in caso di... Oltre quelli della protezione civile, anche chiusure di strade, possibilità di una chiusura di un acquedotto per non potabilità dell'acqua, una chiusura di una scuola per la neve o per eventuali altri problemi, problemi di circolazione dovuti magari a un grande evento, a manifestazione che potrebbe vedere la chiusura di strade e molte altre possibilità sia di emergenza ma anche di utilità pubblica.